Ecco la mamma, la mamma Rottuna, ciao mamma Rottuna, ciao mamma Rottuna, ce ne ho altre due di cucciole, ce ne ho anche tre dentro, ma si è arrabbiata, si è arrabbiata? E noi ci abbiamo fatto fare le scale, le scale per farla, sai, la ginnastica al reparto, capite? Le scale le bagliate? Pre 8, ci ho pre 8 nel massimo, non è nello stesso, no, no, non è massimo, si è arrabbiata, 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 non si sente stressata, basta, basta, è stressata questa è una bella ripresa guarda che carina dentro le orecchie la mammina ciao mammina Banni si fa anche accarezzare è proprio brava ho fatto che la ripresa dal basso qua non hai ancora imparato la lezione zia? no vuoi che ti dà un passo vero? quello che ti rimane per tu è la dieta dei conigli per fare il lavoro